I ricorsi sono stati come una spada di Damocle che hanno pesato non poco sul lavoro dell'amministrazione comunale. Le incertezze che si sono vissute non hanno permesso di pianificare al meglio le iniziative di programmazione. Lo ha affermato il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, che in una conferenza stampa ha attribuito parte delle responsabilità sui ritardi amministrativi alla confusione che si è generata a causa dei ricorsi presentati dalle liste di Sulmona Unita che chiedevano l'annullamento delle elezioni amministrative del 2013. Sindaco, quanto hanno influito i ricorsi in quest'anno di amministrazione? Molto se pensiamo che i ricorsi sono stati presentati dieci giorni dopo l'insediamento del Consiglio Comunale che una parte dei consiglieri non hanno riconosciuto la legittimità del sindaco e di tutto il Consiglio Comunale che la prima sentenza del TAR è avvenuta ad ottobre del 2013 e l'ultima, quella del Consiglio di Stato, è intervenuta tre giorni fa. Una spada di Damocle che ha pesato fortemente sulla testa del Consiglio Comunale impedendo allo stesso anche di effettuare una programmazione pluriennale sulle attività amministrative e politiche e oggi la sentenza di Stato finalmente mette fine a questo ricorso che hanno fatto le liste che hanno denunciato l'invalidità delle elezioni. Ora che il Consiglio di Stato ha proseguito il sindaco, ha messo la parola fine a questa vicenda possiamo agire con serenità e programmare meglio le attività. Il primo cittadino è indicato tra gli obiettivi da perseguire l'esternalizzazione dei servizi, le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, l'apertura dei cantieri dell'ospedale e il rilascio delle autorizzazioni per le sale operatorie e il posizionamento della nuova TAC. Un ampliamento dell'attività di programmazione che il sindaco si auspica di attuare con una maggioranza allargata tutte le forze del centro-sinistra. Penso che da oggi debba aprirsi una nuova fase che sia quella del dialogo, sia quella del confronto soprattutto tra i partiti della coalizione e anche con le altre forze politiche al fine di programmare quelle scelte importanti per la città di Sulmona. Presto verrà convocata una riunione di coalizione, ha annunciato Ranalli, che si aspetta una risposta positiva dei partiti. Il primo cittadino ha fatto sapere che oltre a PD e SL l'appello riguarda i socialisti. Nell'elenco il sindaco ha inserito anche scelta civica, confondendo però il legame tra il consigliere di minoranza Gianfranco Di Piero e il neoeletto in regione Andrea Gerosolimo, in quanto il partito dell'ex premier Monti non è rappresentato in consiglio comunale. Io ho chiesto ai partiti politici della coalizione di maggioranza di ridefinire il programma di mandato e di ripresentare delle iniziative all'interno della coalizione. Sicuramente il dialogo è tra i partiti, occorre fare chiarezza. Io in qualità di sindaco sui provvedimenti più importanti della città cercherò di avere delle maggioranze e delle convergenze più ampie anche rispetto a quelle della coalizione. Il sindaco Ranalli ha poi bacchettato chi si era impegnato a ritirare il ricorso e poi non lo ha più fatto. Il riferimento è ad Andrea Gerosolimo. Cosa intende dirgli ora? Il Consiglio di Stato si è espresso, forse è meglio così che il ricorso non è stato ritirato, almeno definitivamente si mette luce su una vicenda che ci ha toccati profondamente dal punto di vista umano per la perdita di Fulvio, ma anche dal punto di vista delle elezioni e amministrativo, perché ci hanno contestato che il sindaco era legittimo e che questo Consiglio Comunale era legittimo. Oggi lo Stato dice che invece noi abbiamo operato con correttezza, abbiamo rispettato le norme e che questo Consiglio Comunale è valido e efficace a tutti gli effetti. Il sindaco Ranalli ha infine elogiato il ponte di collegamento che si crea ora tra l'amministrazione comunale con il nuovo governo regionale e il sottosegretario Giovanni Legnini. Ci sono tutti i presupposti, ha concluso, per lavorare bene insieme.